Lunedì 30 dicembre, presso la Sala dei Francesi del Castellangio in Aragonese di Agropoli, si svolta la consegna dei doni e bambini. Nell'ambito dell'evento, un sorriso sotto l'albero 8, organizzato dal Forum dei Gioveni di Agropoli con il forte sostegno dell'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Adamo Coppola, che ha visto l'ausilio dei volontari della Caritas, Madonna delle Grazie e del Centro Aiuto alla Vita. I bambini hanno vissuto una mattinata intensa, piena di emozioni, hanno visitato il Castello Incantato e incontrato Babbo Natale, che li ha accompagnati poi nella Sala dei Francesi, per una colazione insieme e per la ricca consegna dei doni. Come ogni anno si ringraziano tutte le scuole di Agropoli, i volontari e i numerosissimi benefattori, che hanno donato un sorriso ai bimbi. In più si ringrazia un ragazzo di Pompei, che vuole rimanere anonimo, e l'Associazione Sudentesca Futura dell'Università di Fisciano, che hanno contribuito a questo bellissimo progetto. Quest'anno la raccolta è stata eccezionalmente generosa e sono rimasti molti regali che nei prossimi giorni saranno consegnate all'Associazione Cittadine. Un sorriso sotto l'albero, afferma il Presidente del Forum, Mattia Barbato, fa parte della tradizione natalizia di Agropoli e del Forum dei Giovani. Ogni anno rimaniamo sempre più soddisfatti ed emozionati di quanta bontà la nostra cittadina riesca a donare.